Buongiorno a tutti, sono Sandro Tognazzi e vorrei parlare come una specie di dieta che mi hanno spiegato in pochi giorni si calano diversi chili, si perdono. Comunque la spiegazione che mi hanno dato è questa, devi prendere dei limoni, tagliarli tre o quattro e tutti i giorni prendere queste spremute di limone con un po' d'acqua naturalmente e non mangiare né cose dolci, poca pasta, tutto regolare, insomma stare un po' a dieta. Già questo, dico, ma anche senza limoni, io pensando di stare a dieta diminuisco il peso, però loro mi hanno detto così che non si perde il peso solo attraverso quando bevi i limoni, perché alla mattina devi fare queste spremute e poi bere il succo del limone con dell'acqua. Poi dopo, durante la giornata, mangiare in modo regolare, ecco, stare attenti sempre al mangiare e il tipo di mangiare, specialmente adesso che fa caldo, anche i gelati, limitarli molto, perché ci contengono zuccheri, le cose, bere il caffè amaro, ben quello lo bevo già. Comunque staremo a vedere, sono appena partito e ce l'hanno detto come minimo, ci vuole sette giorni e vedi subito i primi risultati. Speriamo che non sia il limone che mi fanno nell'estitichezza. Non so, vi farò sapere e vi saluto tanto, arrivederci.